Ciao a tutti ragazzi, sono Alessio del team di Forza Pubblica Italia e oggi parleremo in questo video di un tubo questo tubo con i pomelli neri no ragazzi, scherzi a parto, sono emozionatissimo veramente perché qualche giorno fa, due giorni fa, mi è arrivato appunto questo tubo direttamente da Giorgio la Game Trade e Giorgio mandandolo mi ha detto guardare è un'anteprima mondiale sono rimasto abbastanza di sasso perché cavolo c'è un'anteprima mondiale è sempre una grossa emozione fare un video su qualcosa che deve ancora uscire e sapere che in realtà questa è l'unica copia al mondo esistente del prodotto che sarà per uscire l'ho già visto, non ho resistito, volevo prima di farlo, cioè fare il video in diretta ma la mia scimmia mi ha imposto di aprirlo prima, non ce l'ho fatta perché la prossima volta il prodotto sarà molto più bravo ma a sto giro non ce l'ho fatta mai e niente ragazzi, andiamo a vedere cosa c'è qua dentro anzi, vi faccio vedere cosa c'è qua dentro se riesco ad aprirlo perché è abbastanza ostico da aprire come tappetino è un tappetino, tanto si notava dalla forma qua dentro ci sta un tappetino, un poster fare video di spoiler sui poster non li facciamo ancora quindi facciamo i video di spoiler sul tappetino allora, aspettate che tra un quarto d'ora ho finito, giuro come direbbe un mio amico nel tempo in cui tu apri questo io avevo sbustato un box ok, tappetino sul tavolo posiamo il tubo srotodiamolo al contrario così non ve lo spoilerò subito e ok è nel verso giusto, perfetto ok ragazzi è un momento topico topicissimo sono teso un po' in realtà e sì, sono teso con un tappetino sono cose che succedono mi andrò a far vedere dai, uno bravo però a far degli scherzi dai, va bando alle cianci, vediamolo 3 2 1 eccolo ok ragazzi mi avvicino un attimino in cam così lo vedete meglio questo è il fighissimo tappetino di Natale di Lumia ok, lo vedete? allora, praticamente l'artwork è quello stesso artwork della carta che dovrebbe uscire sempre in periodo natalizio per le festività di Lumia risonatore ve lo ricordate? erano uscite le spoiler un po' di tempo fa non ricordo precisamente quando ma erano uscite e la ultra prova ha deciso bene di farci un tappetino allora sarà già vedete quanto è carino quanto vedete c'è l'umietta qua con il bambolotto di Grimm in braccio tutta sorridente e un sacco di alberi natali il colore predominante del tappetino come al solito è rosso che sappiamo essere il colore di Forza of Wheel vedete maglietta rossa tovaglietta qua come ecco qua rossa e un po' magic rosso tutto rosso in Forza of Wheel e anche il back di questo tappetino l'abbiamo fatto rosso ok? allora è bello ragazzi è veramente bello dalla cam rende pochissimo io ce l'ho qua lo sto toccando con mano è fantastico ne vorrei altri dieci se non fosse già che ce n'è uno al mondo e ce l'ho io al momento a facciaccia vostra ok torniamo in postazione così mi rimetto bene seduto vedete il mio bel nasone che vi parla ecco qua lo sentiamo qua il tappetino allora tappetino quando esce allora la data precisa non ce l'abbiamo ancora ovviamente se è un tappetino di Natale esce uscirà poco prima delle festività quindi ragazzi questo Natale veramente Forza of Wheel ci fa un sacco di regali tappetino mazzi nuovi sacco di robe mille tornei sarà veramente un Natale fantastico e appunto ordinabile dal vostro negoziente di fiducia tutti gli hobby store che trattano Forza of Wheel dovendete regolarmente giocare i tornei e quant'altro e niente cosa dirvi in più su questo tappetino strafico che che ne voglio 12 ne ho già uno me ne comprerò altri praticamente allora come potrete vedere questo tappetino comprassandolo perché ovviamente e se tanto mi da tanto dovrei in realtà partecipare a qualche torneo nei prossimi giorni quindi ai prossimi magari master qualifier se gioco potreste trovarmi con il tappetino se provate a sbavarci sopra mi porto il tubo e ci picchio fortissimo col tubo del tappetino figo e niente allora ragazzi intanto vi ringrazio per aver visto questo video e volevo in ogni oltre anche possiamo far ricordarvi che mancano ben due giorni perché lì facciamo l'estrazione alla scadenza del super contest quello in cui mettevamo in premio la little red promo che andrò a prendere perché essendo io un cialtrone non l'ho preparata prima tra le promo ma ora la prendo eh giuro sto prendendola subito mettiamo eh prendiamo qua mettiamo le promo promo eccola eccola qua l'ho provata allora quindi vi la ricordate la little red promo? la avviciniamo in cam eccola qua ecco facciamo abbiamo fatto un contest qualche giorno fa c'è un video che poi linkerò qua sotto in cui si può vincere questa fantastica little red e mancano due giorni per l'ora di facciamo l'estrazione quindi ragazzi se volete partecipare provate ad aggiudicarvi anche la little red promo cosa dovete fare? dovete fondamentalmente iscrivervi al canale e visto che vogliamo semplificare le cose voi vi iscrivete al canale faremo un'estrazione diretta su tutti i partecipanti del su tutti gli iscritti al canale ok? abbiamo voluto estendere questa cosa per diciamo aumentare la notte per fare un regalo in più fondamentalmente sembrava brutto che i vecchi iscritti al canale non potessero partecipare e in realtà così è molto più più bello ok? bene ragazzi direi che con questo è tutto l'anteprima mondiale è stata fatta cavolo che bello questo tappetino e niente ragazzi allora ci vediamo alla prossima qui su youtube sul canale di Forza Puglitalia mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale condividete questo video con i vostri amici se vi è piaciuto e state pronti perché appunto dicembre è un mese pieno di uscite pieno di cose c'è esce la biandante del crepuscolo le scone di starter deck esce il tappetino non so ancora cosa uscirà Giorgio ha fatto anche un video oggi in cui ci sono altre cose fighissime guardate il video che è quello che abbiamo postato cioè io ho detto oggi ma in realtà per voi sarà ieri perché avete capito quindi fate quello che dovete fare e niente ragazzi ci vediamo alla prossima più sul canale di Forza Puglitalia baci e abbracci vi voglio un sacco di bene ciao 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 ciao